Allora, è una situazione a macchia di leopardo, nel senso che in diversi Paesi membri, non molti 5 o 6, si sono dotati di strumenti autonomi, ma da molte parti, in termini proprio politici, l'Europa, la Direzione Generale dell'Ambiente e della Comunità Europea, ha lo stimolo alla missione di costruire un sistema di interscambio delle informazioni tra questi sistemi esistenti e anche nei confronti dei Paesi che non sono dotati del sistema. Vediamo di passare alla situazione italiana, perché? Perché la situazione italiana è descritta dagli studi che ha costruito la Comunità Europea, molto confacente alle esigenze da loro espresse. La situazione italiana è costituita da due sistemi, il SIT, Sistema Informativo per i Trasporti Trasfrontalieri, e il SISPED, Sistema delle Spedizioni. Il Sistema Informativo per i Trasporti Trasfrontalieri di questo sistema sono dotate oggi la Regione Veneto e la Regione Lombardia. È un sistema che costruisce la pratica di import-export passando attraverso tutti gli stadi, attraverso tutte le autorità competenti, soggetti coinvolti, ai fini autorizzativi. Il SISPED invece va alla conclusione di questo processo, raccoglie solamente i documenti una volta che questi sono stati autorizzati e prodotti. Qual è la differenza? La differenza è sostanziale, nel senso che nel primo caso io genero e seguo informaticamente un processo di costruzione di uno strumento che è previsto dalla norma. Nel secondo caso tutto questo è già avvenuto e raccolgo solamente i dati. Di fatto il primo caso serve a sveltire le pratiche di autorizzazione dell'import-export. Il secondo serve invece adottare, ad raccogliere la documentazione necessaria alle autorità di ispezione, alle attività di ispezione effettuate dalle autorità di controllo. Perché c'è questo dualismo? Perché la Regione Veneto e la Regione Lombardia costituiscono in termini di volumi il 50% dell'import-export che viene in tutta Italia. Nelle altre Regioni ci sono delle concentrazioni molto importanti di materiali che entrano e escono, però c'è una diluizione del rimanente 50%. Allora, in due modi sostanzialmente abbastanza simili in questo momento. Nel senso che il sit è un'applicazione web, il sit è quello della costruzione della pratica, è un'applicazione web che mette a disposizione i soggetti obbligati delle maschere, delle videate, via internet, chiaramente, nelle quali il soggetto obbligato inserisce le informazioni che sono necessarie alla costruzione della pratica. Allega documenti in PDF o comunque scansionati o comunque in formato cartaceo, diciamo, sempre trasformati in documenti elettronici ma provenienti da un formato cartaceo, per corredare la pratica di tutti gli allegati necessari. Il SISPAD invece, dato che l'oggetto della pratica è l'emanazione di due documenti, documento 1A che sintetizza tutta l'operazione di import-export e i documenti 1B che costituiscono invece i viaggi, le bolle di accompagnamento degli trasporti che vengono effettuati successivamente. Il SISPAD invece mette a disposizione, sempre ai soggetti che lo devono utilizzare, delle maschere per inserire il documento 1A e il documento 1B. Allora, questa situazione si può evolvere dando un aiuto molto consistente ai soggetti obbligati, i quali, proprio per la costruzione di questi, concettualmente sono costruiti questi sistemi, sono obbligati a inserire i dati praticamente due volte, una volta nel loro sistema informativo e un'altra volta nel sito, nel SISPAD per riuscire a distituire il dialogo o comunque alimentare questi sistemi secondo le regole ad essi connessi. Noi possiamo intervenire nell'automatizzare questo processo, quindi sostanzialmente nel rendere la vita più facile a questi signori soggetti obbligati, che siano essi autorità di spedizione o di destinazione, che siano essi notificatori, cioè gli istitutori delle pratiche, che siano essi gli impianti di destinazione dei rifiuti che arrivano in Italia, ciascuno di questi signori si può dotare di un sistema informativo che parla in interoperabilità sia con il sito che con il SISPAD. Di fatto, questi due sistemi sono stati dotati di una porta applicativa, quindi di un insieme di servizi, sempre via web, che permettono il dialogo automatico con i sistemi esterni, che a loro volta sono alimentati dagli operatori per le pratiche amministrative normali di loro competenze. L'obiettivo sarebbe quello di eliminare anche questi tempi morti e questa possibilità di sbagliare, di errori nel ridigitare le informazioni più volte, e quindi dotare i sistemi informativi dei soggetti obbligati di un sistema di interoperabilità e quindi di dialogo automatico con i sistemi centrali. Mi verrebbe da dire che sono il mattatore, ma non è così. Diciamo che io sono l'analista che ha costruito il SIT e che ha poi generato il SISPAD, oltre ad essere a capo della società che in termini operativi ha costruito questi due sistemi. Questo mi ha permesso poi, attraverso la nomina da parte del Ministero alla partecipazione ad un tavolo di lavoro in Europa, di seguire i lavori anche a livello europeo. Quindi sono in grado di conoscere in maniera abbastanza completa, direi, tutta la situazione internazionale. E non solo, sono in grado anche di intervenire in maniera molto precisa e molto oculata e molto, diciamo, conveniente per le persone che possono seguire i miei indirizzi, i miei consigli, nel far sì che questi strumenti vengano alimentati automaticamente. Perché? Perché in questo modo si diminuirebbero di molto i tempi e comunque gli errori di comunicazione con questi sistemi. Il futuro di questo mercato è in un ampliamento della digitalizzazione dei processi. Cosa significa? Significa non dover più utilizzare sistemi informativi diversi per realizzare gli stessi documenti o comunicare gli stessi documenti alle autorità competenti. Quindi, sostanzialmente, sulla base delle manazioni da parte dell'Europa di questo electronic data intercendi, di questo protocollo per lo scambio informato elettronico dei documenti tra i diversi stati membri, tra le autorità competenti di diversi stati membri e soggetti obbligati, ciascun soggetto ha senso che si doti di un sistema che dialoga in automatico attraverso questo protocollo con questi ulteriori interlocutori. Quindi, l'Europa interverrà standardizzando il dialogo, i soggetti dovranno adeguarsi utilizzando questo standard per dialogare. Come si fa? Bisogna dotarsi di un sistema informativo in grado di poterlo fare, di poter dialogare direttamente con SIT e SISPED, in maniera tale che poi il dialogo possa essere esternato, esternalizzato e mandato fuori dal Paese, diminuendo mostruosamente i tempi di istruttoria delle pratiche e praticamente comunicando quasi in tempo reale le movimentazioni dei materiali che vanno e vengono attraverso i confini del Paese.